Buonasera, ben trovati con il notiziario di G News, edizione delle 19. L'ampia pagina di cronaca ci porta a Porto Sant'Elpidio, dove è stato trovato il cadavere di un uomo sulla spiaggia di Porto Sant'Elpidio, sul lungomare nord, al confine con Civitanova e Marche. La scoperta è stata fatta questa mattina. Il corpo senza vita è stato rinvenuto nel tratto di arenile davanti allo chalet La Playa de Cococcio. Le cause del decesso da una prima ispezione dovrebbero essere per annegamento. Sono in corso indagini per dare un nome all'anziano e le attenzioni sono concentrate in particolar modo su un uomo scomparso da Castellano nella una frazione di Sant'Elpidio a mare. Restiamo nelle Marche, andiamo a Loreto, ancora sangue sulle strade vicine al santuario della Santa Casa di Loreto. Un'auto guidata da un uomo è andata a sbattere contro una vettura e un Ducato dell'Anfas posteggiato. Nell'impatto il Ducato è finito sopra il marciapiede colpendo una donna che passeggiava al lato della strada. La donna è molto grave ed è stata trasportata in ospedale con l'eliambulanza. Andiamo a Cepagatti in provincia di Pescara per i funerali che hanno commosso la comunità non solo pescarese ma anche nazionale ed è quella relativa alla piccola Neida, la bimba di 5 anni deceduta tragicamente domenica scorsa nel rogo dell'auto incendiata dal padre Gianfranco Di Zio, deceduto anche lui dopo aver cosparso l'auto di benzina e avergli dato fuoco. C'erano tanti palloncini bianchi ad accogliere la chiesa di Santa Lucia di Cepagatti dove sono stati celebrati i funerali della bimba. Oggi pomeriggio alcune migliaia di persone attonite e senza più lacrime e parole hanno voluto salutare per l'ultima volta questo piccolo angelo innocente. Un dolore inconsolabile ma allo stesso tempo composto quello della comunità di Cepagatti che chiusa nel suo dolore nel giorno del lutto cittadino continua a chiedersi come sia potuto accadere tutto questo. A fianco della piccola bara i compagni di asilo della piccola, gli alunni delle scuole materne ed elementari di Cepagatti con i grembiolini azzurri e rosa. Le lacrime e il pianto di rotto anche di tanti adulti è stato per un attimo confortato dalle parole del parroco della chiesa di Santa Lucia Don Lucio Giacintucci. L'ultimo pensiero di Don Lucio è stato per la mamma della piccola che sta lottando per la vita all'ospedale Sant'Eugenio di Roma. E Porto d'Ascoli si è fermata per dare l'addio a Davide Antonini stroncato da una lucemia fulminante a soli 16 anni. Alle 15 di ieri quando la bara bianca è stata portata nella navata centrale della chiesa e la messa è iniziata c'erano oltre mille persone. All'esterno in una saletta adiacente alla sacrestia sono stati montati due televisori per consentire a più persone di assistere alle esequie. Sotto un sole a picco che ha provocato tre malori tanto da costringere i vigili urbani ad allertare un'ambulanza della misericordia c'erano centinaia di persone rimaste fuori. A Colmurano in provincia di Macerata per parlare di stalking conosco albanesi e macedoni che per 200 euro altro che l'acido sul viso ti tirerebbero. Per messaggi di questo tipo su un manifestino una lettera e due biglietti tutti anonimi indirizzati al sindaco di Colmurano Ornella Formica un disoccupato e ora indagato per stalking. Nonostante una lettera di scuse contro di lui è stato disposto il divieto di avvicinamento al primo cittadino e i suoi familiari. L'uomo è ritenuto l'autore degli scritti in base ad una perizia grafologica. Ci spostiamo a Civitanova Marche, respinta da un giovanissimo cliente perché brutta. Lei lo ricatta per avere il denaro pattuito dalla prestazione e viene così denunciata per tentata estorsione. Una prostituta vista si respinta perché non conforme agli standard estetici del cliente prova a ricattarlo ma finisce per essere denunciata per tentata estorsione. È accaduto a Civitanova Marche e vittima del tentativo di estorsione un ragazzo di 20 anni del luogo che curioso di avere qualche avventura piacevole e di svago era andato in un sito internet specifico per reperire compagnia femminile. Scelta la ragazza e dopo aver preso un appuntamento si era regato nell'abitazione della stessa, una rumena. Ma dopo aver constatato che la donna non corrispondeva a quella vista in foto un po' titubante decideva di andare via e di rinunciare alla prestazione sessuale mettendo su tutte le furie però la prostituta rumena che vista si rifiutata ha pensato bene di provare a distorcergli comunque il danaro della prestazione telefonandogli e minacciandolo di denunciarlo per stupro. Se non mi dai soldi chiamo la polizia e dico che mi hai violentata dopo avermi minacciata con la pistola. Queste le parole della squillo. L'intimidazione ha fatto capire al ragazzo che era meglio non indugiare e correre al commissariato di polizia a denunciare quanto gli stava accadendo. La squillo infatti pretendeva 50 euro. Una volta al commissariato d'accordo con gli agenti è tornato nell'abitazione della rumena e al momento della consegna dei soldi richiesti è scattata la trappola e la donna è stata denunciata per tentata estorsione. Ancora cronaca dalle Marche. Minaccia la cognata incinta costringendola a consegnarli del denaro in contante. Viene arrestato dai carabinieri in flagranza di reato. È successo la scorsa notte a Porto Sant'Elpidio. All'arrivo dei militari l'uomo nulla facente, verosimilmente sotto l'effetto di stupefacenti, ha inveito contro i carabinieri brandendo un ombrello. Ma è stato bloccato e poi ammanettato. In caserma ha danneggiato poi un computer in dotazione ai carabinieri e una bacheca. Ora si trova in carcere. Tragedia al circolo Beretti di Grotta a Mare. Ennio Pignotti, 64 anni, è stato colto improvvisamente ieri intorno alle 22 da un improvviso malore che si è rivelato purtroppo fatale e che lo ha colto proprio mentre era sul campo di terra battuta. Impegnato in una partita dello sport che amava a praticare nel tempo libero. Il malore non ha lasciato scampo al 64enne che è caduto a terra ed è rimasto immobile. Sono subito scattati i soccorsi. Sul posto è giunta in pochi minuti un'ambulanza del 118, ma il personale sanitario a bordo del mezzo non ha potuto far altro che constatare l'avvenuto recesso. La notizia ovviamente ha sconvolto l'intera comunità grottamarese dove Pignotti, che lavorava nell'officina Renault che si trova nell'area della fornace, era molto conosciuto. Lascia una moglie che lavora in una parrucchieria di Grotta a Mare e due figli. La droga arriva per posta direttamente dalla Spagna. Era indirizzata a due fidanzati che sono stati così arrestati a Cadea d'Osimo. Ha dell'incredibile infatti la storia che vede coinvolta una coppia, lui ventenne già noto alle forze dell'ordine, la fidanzata, entrambi finiti in carcere. La droga, un chilo di marijuana e asci, è stata recapitata a casa del nonno del giovane tramite corriere. A Fingers, i poni expert, sono stati gli uomini della guardia di finanza che, sotto copertura, hanno consegnato il pacco contenente la droga a un ignaro, quanto mai stupito nonnino. Non ci è voluto molto alle fiamme gialle per capire che in realtà il destinatario del pacco non era l'anziano Simano, quanto il nipote, già noto alle forze dell'ordine, per problemi legati proprio agli stupefacenti. Aperto il pacco, è venuto fuori il contenuto, un chilo di droga proveniente direttamente da Barcellona. Il ragazzo è stato rinchiuso nel carcere di Montacuto, arrestata anche la sua fidanzata, finita però nel carcere di Pesaro. Cambiamo decisamente argomento. Il Tar per l'Abruzzo ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il ricorso Edison contro il provvedimento del Ministero dell'Ambiente riguardante la mega riscarica di bussi. Il provvedimento ordinava infatti alla Edison la rimozione dei rifiuti depositati nelle riscariche realizzate nell'area di bussi, dove è localizzato lo stabilimento industriale della società ed il ripristino dello stato dei luoghi e l'eventuale bonifica delle matrici ambientali interessate. Nel prossimo servizio ci trasferiamo invece a Teramo per parlare dell'Università. Il Rettore Luciano D'Amico chiude infatti tre sedi decentrate dell'Ateneo e scoppia così la polemica. Intanto c'è un'indagine in corso da parte della Procura sulla fondazione che sta creando un altro caso in città. Vediamo. A 48 ore dalla visita del Ministro dell'Istruzione Stefania Giannini, prevista per sabato, il Rettore dell'Università di Teramo Luciano D'Amico chiude tre sedi della Facoltà. L'attività didattica del biegno di medicina veterinaria, la scuola Molinari, del triennio alla ex motorizzazione civile di Cartecchio, del fondo rustico di Chiareto di Bellante, dove restano attive soltanto le strutture di ricovero degli animali. È stata trasferita tra il polo umanistico della Facoltà di giurisprudenza del campus di Coste Sant'Agostino e tra il polo agro-bio-veterinario di Pianodaccio. Un fulmine a ciel sereno per gli studenti della Facoltà, normale razionalizzazione per l'Ateneo. Tutto questo, anche se avvenuto in così breve tempo, appartiene a quel piano di razionalizzazione delle sedi avviato con il trasferimento, leggi chiusura delle attività delle Facoltà Umanistica d'Atri e Giulianova e quelle amministrative del Rettorato di Viale Crucioli. Necessità di offrire agli studenti migliori strutture funzionali e adeguate sotto il profilo organizzativo e dei requisiti di sicurezza. Da un lato, accelerazione di un trasferimento soprattutto del triennio dell'ex motorizzazione ben pianificata e da concludersi nei prossimi mesi. Con un ospedale veterinario universitario in fase di apertura e una convenzione con la Fondazione Università in scadenza, l'Ateneo si trova a gestire una situazione organizzativa complessa e non per gli spazi, notoriamente sconfinati delle strutture di proprietà. Il decreto c'è, lo stupore anche, e l'Università, in attesa del Ministro, guadagna un'altra ribalta mediatica, dopo quella messa in risalto per il passaggio di finanze e carabinieri tra le carte contabili e amministrative. La Procura di Teramo infatti indaga sui rapporti tra l'Ateneo e sulla sua fondazione, innesso con le chiusure, potrebbe non essere poi tanto campato in aria. Sulle indagini giudiziarie il Rettore Luciano D'Amico, per il rispetto dovuto nel caso dell'Università di Teramo, voluto, all'autorità giudiziaria ritiene di non rilasciare alcuna dichiarazione. In ogni caso è bel lieto di spalancare le porte dell'Ateneo a qualsiasi attività di controllo, mirata all'accertamento della piena legittimità degli atti. Sul taglio delle sedi conferma l'obiettivo di concentrare in due sedi l'operatività dell'Ateneo nel comune di Teramo. Campus di Coste Sant'Agostino è piano d'accio entro la fine del corrente anno. Restiamo nel capoluogo a Prutino, mattinata di paura in Viale Bovio con fumo che è stato visto uscire dall'appartamento al secondo piano di una palazzina poco distante dalla Questura. Per cause ancora da chiarire, infatti, a prendere fuoco sono stati alcuni mobili posizionati sul balcone. Immediato è scattato l'intervento dei vigili del fuoco per spegnere il rogo ed evitare che le fiamme potessero arrivare anche all'interno dell'abitazione. Poi ad uno ad uno i mobili sono stati gettati dalla finestra per permettere ad un altro pompiere di spegnere completamente le fiamme. Tanta paura ma nessuna conseguenza per la famiglia all'interno mentre al di fuori si è formato un gran capannello di curiosi che ha assistito alle operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco. E a Civitanova Mar che un altro incendio ha interessato un'abitazione. Vigili del fuoco sono entrati in azione, infatti, la scorsa notte in via Centofiorini a Civitanova Alta. L'intervento era relativo appunto a un incendio ad appartamento a fuoco alcune suppellettili. Le fiamme sono state spente, per fortuna, senza particolari problemi. Si registrano però solo alcuni danni. E cambiamo argomento. Oggi, primo maggio, si festeggiano i lavoratori. Una data simbolica in tutto il mondo ma che in questi ultimi anni ha assunto il sapore di una vera e propria beffa. I dati della disoccupazione e la crisi economica non hanno comunque scalfito l'intensità della sua importanza. Vediamo. Primo maggio, festa dei lavoratori con l'incubo disoccupazione. Si rinnovano anche quest'anno i festeggiamenti per una data simbolica in tutto il mondo ma che sembra diventata in questi ultimi anni quasi una sorta di beffa alla luce della situazione economica mondiale nazionale, vissuta da molti sulla propria pelle. La disoccupazione in Italia resta infatti al 12,7%, quella giovanile al 42%, dati impressionanti con i sindacati che rimangono critici rispetto alle riforme del lavoro proposte. E quest'oggi, tra i festeggiamenti del concertone di piazza San Giovanni a Roma, non può non levarsi il loro grido di allarme. Ma facciamo un passo indietro nella storia. Simbolo della lotta operaia, le celebrazioni del primo maggio fanno risalire la propria origine alle rivendicazioni sindacali di fine ottocento. Le numerosissime manifestazioni di quegli anni confluirono quindi nella decisione di indire una giornata annuale durante la quale avrebbe avuto luogo una grandiosa manifestazione capace di coinvolgere i lavoratori di tutto il mondo. Decisione presa nel corso del congresso della seconda internazionale di Parigi nel 1889, momento in cui fu indicato proprio il primo maggio come giornata di lotta. Una data simbolica e una giornata per ricordare l'impegno del movimento sindacale, nonché i traguardi raggiunti dai lavoratori in campo economico e sociale. Come ogni anno, anche per questa edizione 2014, sarà a Roma ad accogliere la più grande manifestazione in Italia, inaugurata nel 1990 da CGL, CISL e UIL. Ma sebbene ormai molti anni siano passati e molti diritti siano stati acquisiti dai lavoratori di quasi ogni paese, ogni anno il primo maggio, oltre a ricordarci l'importanza e la gioia di quelle prime fondamentali conquiste, torna a ricordarci che ancora molte sono le lotte da combattere, affinché vengano superati gli attuali problemi del mondo del lavoro, tra i quali spiccano, come ricordato, la disoccupazione giovanile e il precariato. Ed in questo contesto c'è purtroppo da registrare un atto vile che offende sicuramente la dignità dei lavoratori e la festa che accomuna tutto il popolo che ha cercato, cerca lavoro e che magari lo ha o per qualcun altro che lo ha perso. A Ruffide infatti è stata bruciata la bandiera rossa che, come vuole la tradizione, era stata posizionata su un albero a Santa Maria Goretti per l'occasione del primo maggio. Nella notte appena trascorsa è stato buttato a terra l'albero, il drappo è stato posizionato su un palo della luce della rotatoria del quartiere e qui è stato dato alle fiamme. Torna l'emergenza cani a Teramo. L'istituto zooprofilattico caporale minaccia infatti di riconsegnare al comune, mandandone in crisi casse e creando una crisi veterinaria, una ottantina di cani attualmente ospitati nel canile di Contrata Gattia e assistiti grazie anche all'intervento dei volontari della Lega del Cane. Con il canile di Carapollo sotto sequestro giudiziario, una capienza ridotta a 100 animali, il problema diventerebbe un macigno per l'amministrazione. Ma l'intervento del comune potrebbe scongiurare almeno per il momento una crisi economica ed igienico-sanitaria. Di fronte al concreto rischio di dover sborsare molto denaro per girare gli ospiti a quattro zampe a residence per animali di Castelbasso, al costo di 3,50 euro a cane in attesa del dissequestro, con i lavori in fase di ultimazione, gli altri 150 posti nel canile rifugio, si potrebbe ottenere un rinvio di almeno tre mesi dello sfratto degli ZS. Il costo dell'operazione si traduce in aiuto alla Lega del Cane perché prosegue nella sua opera di assistenza ai cani senza padrone e soprattutto per fornire le sussistenze necessarie a mantenere gli animali. Restiamo a Teramo. 150 uomini delle 28 pubbliche assistenze da Abruzzo e di comitati regionali insieme con le associazioni nazionali alpini e carabinieri con il Corpo Forestale dello Stato si eserciteranno in una simulazione di intervento post terremoto a Padula di Cortino nel mezzo del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga sabato e domenica prossimi. L'AMPAS Abruzzo ha organizzato infatti la prima esercitazione regionale di protezione civile e soccorso sanitario denominata Briganti del Soccorso. 35 mezzi tra cui ambulanze, camion, automediche, autopompe ma anche cucina da campo, posto medico avanzato e l'autoscout messa a disposizione da AMPAS Nazionale utile a rilevare i danni e a gestire in modo più semplice e rapido situazioni di criticità appunto caratterizzeranno questa due giorni di esercitazione. Lo scenario che si prospetterà ai volontari sarà quello di un territorio colpito da un forte terremoto in seguito al quale verrà attivata l'attività di procedura di gestione dell'evento calamitoso. Andiamo ad Ascoli Piceno, un importante appuntamento si svolgerà dal giovedì 8 a domenica 11 maggio quando Confindustria Ascoli organizzerà l'Expo Piceno Food e ospiterà una delegazione di imprenditori russi operanti nel settore. Seguiamo il servizio di Pietro Paolo e Ingiulla. Questo incontro con i buyers russi sarà sicuramente per l'agroalimentare, sarà molto importante per l'azienda del nostro territorio quindi perché sappiamo che la Russia è molto interesse per i nostri prodotti? Sì, nello speriamo, il nostro impegno è totale proprio nel portare qui questi buyer del mercato agroalimentare che hanno già manifestato un particolare interesse verso tutti i vari settori dell'agroalimentare qui del nostro territorio. Quindi far sì che la domanda e offerta si incontrino direttamente in casa abbiamo la possibilità sia dell'incontro ma anche dell'assaggio e della visita aziendale. Quali sono i prodotti dell'agroalimentare che la Russia richiede più maggiormente nel nostro territorio? Ma diciamo che tutti quelli che ci hanno particolarmente richiesto li abbiamo presenti qui sul nostro territorio quindi dal vino all'olio alla frutta al mercato ittico congelato che abbiamo un'eccellenza come San Benedetto e un pochino tutti siamo riusciti a trovare tra i nostri associati e non tutte aziende del territorio che rappresentano la loro richiesta. Pensate di fare altre iniziative come questo rivolte ad altri paesi in futuro o vi focalizzerete su territori simili alla Russia? Ma questo è un focus proprio specifico no? Diciamo che questo mini-espo chiamiamolo così perché è monosettoriale e monopaese che andiamo ad ospitare è comunque frutto di un lavoro che è partito da qualche anno e ha avuto lo scorso anno ad ottobre del 2013 un grande successo con l'espo di otto paesi che abbiamo ospitato. Quindi sicuramente poi ad ottobre del 2014 avremo un'altra edizione dell'espo con vari paesi dove l'agroalimentare sicuramente farà una delle parti importanti. Restiamo nel Piceno ma ci trasferiamo sulla costa. Sei mesi di chiusura al traffico per viale Marinai d'Italia a San Benedetto del Tronto. La decisione ancora da ufficializzare è legata ai lavori antiallagamento che andranno a risolvere la tormentata situazione di Piazza Garibaldi e San Giovanni Battista. Il provvedimento verrà varato entro l'estate con gli interventi che si allungheranno gradualmente verso ovest. Per l'occasione sarà modificata anche la viabilità nella parallela via Colombo. Da senso unico passerà infatti a doppia circolazione. E Montorio Alvomano si prepara per festeggiare il cinquantesimo anno di presenza delle suore passioniste nella comunità con l'arrivo della statua di San Gabriele che sosterà in paese per due giorni dal 7 all'8 maggio prossimo. Giorno in cui verranno celebrati i 60 anni di consacrazione di suor Costantina Azzolin e i 25 anni di consacrazione di suor Assunta Balducci. L'evento sarà propizio per solennizzare la recente ristrutturazione della casa delle suore di Largo Rociano presente nel cuore del paese da ben 50 anni. L'edificio chiuso nel 2009 è stato restaurato per opera della casa provinciale delle suore passioniste di San Paolo della Croce. Un restauro importante è quello della casa di Largo Rociano che ha visto il rifacimento del tetto, la sostituzione degli infissi interni ed esterni e l'ammodernamento della disposizione delle stanze interne. In una nota stampa si rende noto che Marco Pannella domani sarà a Teramo in Piazza Martiri per festeggiare il suo compleanno insieme a tutti i cittadini che vorranno accettare il suo invito a partire dalle ore 9.30. Con la sua presenza in Abruzzo, Marco Pannella intende inoltre non solo dare un segno di solidarietà e gratitudine ma corrispondere alla decisione adottata all'unanimità dal Consiglio regionale dell'Abruzzo il 29 aprile scorso che ha dichiarato il proprio sostegno al Satyagra per lo Stato di diritto e rispetto della dignità delle persone detenute, obiettivo divenuto ora condiviso e comune. Le virtù terramane oltre alla tradizione, i sapori e i gusti di un piatto storico ed inimitabile del capoluogo aprutino, il piatto del primo maggio a cui rendiamo normalmente lo si fa tutti gli anni ma in questo caso un doveroso quanto meritato omaggio. Se è vero che il cibo, più di ogni altra cosa, è lo specchio della storia di un territorio e delle genti che lo abitano, le virtù rappresentano la città di Teramo come nessun'altra cosa. È il piatto dei piatti dal rispetto del quale è impossibile distaccarsi. Continuare a preservarne la tradizione è un imperativo per i terramani doc ma anche per i ristoranti terramani e per le trattorie storiche terramane, soprattutto quelle del centro cittadino. L'arrivo del primo maggio per Teramo non equivale al rispetto di una festività significativa come altre ma al rispetto dovuto invece alla sacralità dell'evento virtù terramane, la cui preparazione non priva di interpretazioni anche proprie inizia con largo anticipo anche di più giorni rispetto alla storica data del primo maggio. Le origini delle virtù sono molto antiche, la ricetta è lunga e complessa e ricca di numerose varietà di legumi secchi che in epoche diverse rimanevano nella dispensa dopo il lungo inverno, fagioli, lenticchie, ceci e poi legumi freschi portati dalla primavera, fave, piselli unitamente ad un'ampia varietà di verdure novelle e profumate, asparagi, zucchine, carciofi, scrippigni, borragine, finocchio, misericordia, millefoglie, erba cardellina e maggiorana. Il tutto impreziosito da carni di vario tipo e con l'immancabile presenza dell'osso di prosciutto e di cipolline fresche, ma non è finita qui. A parte si prepara della pasta fatta in casa con acqua e farina, i maltagliati come i tortellini ma anche pasta mista tradizionale che si cuociono assieme a tutto il resto. Il procedimento come detto è lungo e complesso ma il risultato è un'armonia di sapori e di profumi irresistibili. Sono queste le vere virtute ramane. Buon appetito a tutti coloro che avranno la possibilità di gustarli, non soltanto il primo maggio, ma a partire dal primo maggio. L'Abruzzo si sa è terra di tradizioni come quella teramana delle virtù ma anche di fascino e folclore come quella dei serpari a Cocullo. Oltre 20.000 persone infatti hanno assistito al tradizionale antichissimo rito dei serpari in cui la statua di San Domenico viene portata in processione vestita di serpenti vivi catturati nei campi il mese precedente e poi appositamente preparati. Infine nella processione ha sfilato tra due ali di folla per le strade accompagnata dalla musica della banda. Rendiamo ora noto il calendario degli appuntamenti riguardanti le iniziative in programma nei giorni 2 e 3 maggio con la presenza del candidato sindaco Arascoli Piceno del Partito Democratico Giancarlo Luciani Castiglia. Venerdì 3 maggio alle ore 15 presso la sede elettorale, conferenza stampa del capogruppo del PD all'Europarlamento il candidato alle prossime elezioni europee David Sassoli, lo stesso prima dell'incontro, effettuerà una passeggiata presso Fritto Misto. Alle ore 18 presso la sala Docens, incontro col capogruppo PD alla Camera Roberto Speranza sulla situazione politica attuale all'incontro, parteciperà il candidato sindaco Giancarlo Luciani Castiglia. Sabato 3 maggio alle 11 presso la sala Docens è dibattito sul tema le qualità europee delle città italiane. In una nota stampa si legge che domani, venerdì 2 maggio, il candidato sindaco di Teramo Maurizio Brucchi sarà lieto di accettare l'invito giunto dal presidente della Tercop Leo Iachini per poter così affrontare e discutere le problematiche della società Tercop. Lo stesso Brucchi alle 21 incontrerà poi i residenti della frazione di Spiano presso l'ex edificio scolastico, mentre domenica prossima alle 19 incontrerà i residenti di Rocciano presso l'ex edificio scolastico. Andiamo a San Benedetto con la pagina degli eventi. Si terrà domani, sabato e domenica prossimi presso il Teatro Concordia il musical Sibilla scritto e diretto da Eugenia Brega e Paolo Clementi. Lo spettacolo si svolgerà venerdì e sabato a partire dalle 21, mentre domenica l'orario sarà anticipato alle 17.30. Massimo Falcioni, Arianna Cameli. Si terrà al Teatro Concordia di San Benedetto il 2, il 3 e il 4 maggio lo spettacolo musicale Sibilla dell'Istituto Vivaldi di San Benedetto, uno spettacolo organizzato da Eugenia Brega e Paolo Clementi che ascoltiamo in questa intervista. Quest'anno ci siamo dedicati a un argomento che riguarda le nostre leggende ed è precisamente lo spettacolo sulla Sibilla appenninica, quindi il titolo è Sibilla. Le fonti storiche di questo spettacolo sono al racconto di Andrea da Barberino, guerrino detto il meschino, e Il paradiso della regina Sibilla di Antoine de la Salle. Queste le fonti letterarie a cui abbiamo attinto per scrivere un testo completamente nuovo e quindi con dialoghi, canzoni, inframezzato da monologhi, dialoghi e canzoni. E questo è tutto all'ossatura dello spettacolo che in due atti verrà rappresentato al Concordia. Le musiche sono musiche moderne ovviamente, hanno un'ispirazione etnica in molti casi e in alcuni casi addirittura rock, quindi sono delle musiche abbastanza forti, molto irruente, molto potenti. Alcune hanno un'ispirazione anche leggermente classica, e quindi abbiamo cercato di dare una varietà a livello musicale, anche perché 18 canzoni sono tante, quindi lo stesso genere avrebbe annoiato. Ecco, molto interessante il lavoro, la sinergia tra la musica e il movimento, le coreografie. In molti casi gli attori cantano e ballano contemporaneamente, perché questa è la specifica del musical. Ci sono anche solo coreografie, però sono veramente tante quest'anno, perché lo spettacolo lo richiedeva per creare delle atmosfere magiche, molto sospese. Quindi, ecco, questo è un po' il lavoro che abbiamo svolto. Vi dia conto anche di altri due importanti appuntamenti, sempre nel Piceno. Sabato prossimo, a partire dalle ore 16, presso la Sala Cursale Grotta Mare, è in programma la premiazione del concorso letterario Città di Grotta Mare. Giunta la sua quinta edizione, la manifestazione è stata organizzata dall'Associazione Pelasgo 968 di Grotta Mare, con il padrocinio di Regione, provincia di Ascoli, comune di Grotta Mare. per il terzo anno consecutivo del Centro Nazionale di Studi Leopardiani di Recanati. A questa edizione hanno preso parte oltre 430 autori, provenienti da tutte le regioni italiane, con 937 opere in concorso, con un aumento del 9% rispetto all'edizione scorsa. Le donne sono state 180, con una percentuale del 41,8% nei confronti degli uomini, autori provenienti da tutte le regioni italiane, ma anche da Svizzera e Slovenia. A Cli Arte e Spettacolo organizza il workshop Come gestire le associazioni culturali. Si terrà sabato 17 maggio presso l'auditorium della Scuola di Musica Tecne, con inizio dei lavori alle 10.30. Il confronto con gli esperti sulle tematiche trattate di forte attualità per il mondo dell'associazionismo e della cultura avrà come principale obiettivo quello di esaminare nel pratico varie situazioni, fornendo indicazioni sugli strumenti giuridici e fiscali necessari per svolgere le attività nel pieno rispetto delle regole e delle leggi. Il workshop è rivolto a scuole di musica, teatro, danza, cinema, fotografia, bande, corali, gruppi, rievocazioni storiche e associazioni culturali in genere. La pagina sportiva. Andiamo ad Ascoli, dove è stata presentata l'iniziativa dell'Integrity Tour organizzato dalla Lega Pro e che proprio nella città delle Cento Torri ha visto la tappa finale. Vediamo il servizio di Chiara Poli. Ascoli città dello sport e Ascoli che combatte le frodi sportive insieme alla Lega Pro si è tenuta presso la Sala dei Savi di Ascoli Piceno a Palazzo dei Capitani l'Integrity Tour 2013-14, la tappa conclusiva della lotta alle frodi nelle scommesse sportive e sanzioni penali e sanzioni sportive. Il credito sportivo italiano insieme al direttore generale della Lega Pro Ghirelli e insieme al questore al prefetto hanno portato in Ascoli la lotta alle scommesse e agli illeciti sportivi con dei seminari formativi per giocatori, staff e squadre di calcio. Siamo alla Sala dei Savi di Ascoli Piceno con il dirigente della Lega Pro Ghirelli e volevo chiederle perché avete deciso di concludere qui ad Ascoli questa iniziativa così importante? Perché Ascoli, una società gloriosa, stava scomparendo. È arrivato un grande imprenditore e allora, visto che fuori c'è una crisi pesante, visto e considerato che il calcio è in una situazione di crisi, il fatto che si metta insieme un segnale di speranza per un calcio pulito e per una ripresa dal punto di vista economico e sportivo di una società gloriosa come l'Asco è un messaggio che va al di là del calcio e noi ne abbiamo bisogno. L'integrità sinonimo di, in questo caso, sport? In questo caso significa mantenere per i bambini e per le bambine la possibilità di essere felici vedendo giocare lo sport più popolare al mondo. Per questo lo difendiamo. Anche quest'anno si è svolta a Teramo la Maratonina Pretuziana, la gara che accompagna i terramani ogni primo di maggio da 35 anni. Ogni anno da tante città d'Abruzzo e non solo arrivano atleti per correre una delle gare più suggestive del panorama nazionale. Il gruppo podistico Amatori Teramo cura da sempre l'organizzazione dell'evento. Si è partiti con la 5 km non competitiva della mattina per adulti amatoriali e poi è stato il momento dei ragazzi delle scolaresche divisi per classi di scuole ed età che hanno corso, come riconsueto, sui 500 metri per le prime classi elementari, sui 1000 per le medie e 2000 per le terze e la prima superiore. Vediamo il servizio. Siamo a Teramo per la 35esima edizione della Maratonina Pretuziana organizzata dal gruppo podistico Amatori della locale Città. Grande successo quest'anno con più di 2000 iscritti tra grandi e bambini, tra Teramani e Nonne, un gruppo di maratoneti che oggi ha percorso le vie del centro storico. Quest'anno sta avendo successo più degli altri anni, i numeri sono impressionanti. Stamattina abbiamo fatto 750 di non competitiva di Teramani, di gente che magari corre per la prima volta nella vita. Abbiamo oltre 800 bambini e nel pomeriggio avremo 700 atleti, chiamiamoli atleti, amatori tesserati, che vengono dalle Marche, dall'Abruzzo, da tutte le parti del centro Italia. I numeri di quest'anno sono impressionanti perché non abbiamo mai raggiunto certi numeri. e la Maratonina sta crescendo anno per anno. Non dico grazie a noi e agli amatori di Teramo, ma penso che abbiamo qualche merito, ce l'abbiamo. Quanto è impegnativo preparare questa manifestazione? Allora, per alcune persone, diciamo 4-5 persone, si comincia 4-5 mesi prima. Per la massa del gruppo, per il grosso, l'ultima settimana. Ed è oggi la giornata più impegnativa perché c'è da lavorare come sente, mi è andata già via la voce. La Maratonina non è solo sport, ma anche intrattenimento, infatti ci sono anche degli spettacoli musicali. Esatto. Quest'anno abbiamo abbinato musica e sport. Ci sono due gruppi itineranti, i Giacuna, Matata che vengono da Roma e i Newfang che vengono pure da fuori regione. Nel pomeriggio ci sarà un altro gruppo, i Teramani, quindi ne saranno tre addirittura. E quelli del pomeriggio suonano sopra il palco. Quindi l'appinamento musica e sport si sta rivelando una cosa fatta bene. Sei pronto? Sì. Ti sei preparato? Sì. Vincerai? Sì, per sicuro. Siete pronti per correre? Sì. Ma vi siete preparati questi giorni? Sì. Secondo voi chi vince? Chi arriva primo? Tu. Io. Hai corso questi giorni? Sì, mi sono allenato. Quindi sei pronto oggi? Voi siete pronti? Sì. E a vincere la simpatia dei bambini soprattutto. E in questa cartolina musicale vogliamo raccontarvi appunto la maratonina pretuziana. In questa cartolina davvero simpatica, curata dalla collega Corina Di Matteo. E a vincere la simpatica, curata dalla collega di Matteo. E a vincere la simpatica, curata dalla collega di Matteo. E a vincere la simpatica, curata dalla collega di Matteo. E a vincere la simpatica, curata dalla collega di Matteo. E a vincere la simpatica, curata dalla collega di Matteo. E guarda qui come sta a tu proprio. E a vincere la simpatica, curata dalla collega di Matteo. E a vincere la simpatica, curata dalla collega di Matteo. E a vincere la simpatica, curata dalla collega di Matteo. E a vincere la simpatica, curata dalla collega di Matteo. per Luca che ha stravitto la non competitiva. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ben tornati a un nuovo appuntamento con Meteo Locatelli. Dopo un primo maggio pressoché sereno la situazione peggiorerà soprattutto al centro, al nord e in Sardegna con il rischio di forti temporali e piogge. Al sud invece la situazione rimarrà pressoché stabile con il rischio di qualche annuvolamento. Vediamo in dettaglio le previsioni per Marchi e Abruzzo per venerdì. Il cielo sulle coste sarà prevalentemente sereno con qualche annuvolamento, mentre nelle zone interne ci sarà il rischio di qualche temporale. Le temperature invece saranno intorno ai 17-19 gradi durante il pomeriggio. Vi ringraziamo per l'attenzione e arrivederci. È tutto, G News torna puntuale domani alle 14. Grazie per essere stati con noi e a tutti un buon proseguimento di serata. Grazie a tutti.